A Guerrite più che mai per vedere riconosciuti i loro diritti le lavoratrici della cooperativa Progetto Vita che si occupano dei disabili nelle scuole e dell'ATI che si occupano degli asili nido e del servizio a domicilio per gli anziani e i disabili si sono ritrovate ad innanzi Palazzo del Carmine a manifestare il loro malessere dovuto al ritardo dei pagamenti degli stipendi. Le lavoratrici delle scuole infatti attendono ancora il mese di aprile, la restante parte, maggio e giugno. Un sit-in che per la prima volta vede unite le sigle sindacali della LICOMSAL, CISL Funzione Pubblica, CISL FISA, SCAT, Wiltemp e CGL a sostegno delle lavoratrici. Siamo stanchi che ogni volta per percepire uno stipendio dobbiamo fare un sit-in. Veramente il comune ha fatto tante cose per questi servizi, ha avuto tanti finanziamenti, è stato in gamba. Noi chiediamo uno sforzo di venirci incontro perché non ti può ogni mese chiedere lo stipendio. E poi parlo anche da utente perché mio figlio va al nido, le maestre veramente fanno un ottimo lavoro e mi sembra giusto che siano pagate perché è la prima volta in tanti anni che fanno sciopero. Vogliamo dare risposte da parte del comune perché noi non veniamo pagate in quanto c'è stato detto che il datore di lavoro non era in regola col DURC, che il comune aspetta questo DURC per poter mandare soldi in banca. Abbiamo saputo che c'è un problema di liquidità al comune, dovrebbero approvare un bilancio per trovare questi soldi. Il problema è che noi la mattina andiamo sempre a lavorare regolarmente e di noi non se ne frega nessuno niente. non hanno rispetto per il nostro lavoro, veniamo completamente mortificate perché ci sentiamo dire che non facciamo altro che lamentarci perché se non esistessero queste donne che la mattina prestano servizio per il comune di Caltanissetta assicurando asilinido, assistenza agli anziani, il comune non se ne potrebbe fare peggio di questi servizi. Quindi questa frittata che girano continuamente, noi ci siamo stangati. o prendono delle decisioni in merito serie, fanno le multe alla ditta, non la fanno partecipare nuovamente ad una gara, perché la stanno facendo partecipare a una gara quando una ditta non è in grado di anticipare una mensilità. E mi rivolgo, e questo lo dico apertamente, mi rivolgo a tutte le colleghe che non sono presenti qui in questo momento, che non hanno il coraggio di manifestare per un diritto sacrosanto, che sono rimasti negli asili, perché si spaventano, perché fanno paura. Richiediamo i nostri diritti, chiediamo i nostri diritti, non ci muoviamo di qua se non ci sono i stipendi sopra il conto corrente oggi. Stop! Ci sono molti lavoratori qui a monoreddito, però vogliono le bollette, la luce, non gli possiamo andare a raccontare, guardi non possiamo pagare perché... E sono gravi. Ecco, gravissimi, e gravissimi. Poi naturalmente, se non vogliamo mettere pure il lato psicologico di tutte noi, che è fondamentale in tutto questo, perché si lavora e siamo sempre sotto stress. A noi devono dare lo stipendio, è un diritto acquisito. Bravo!